ragazzi io non so più che fare qui non si dorme più anche stanotte alle tre e mezza me so svegliato e sto cervello che se ne va per conto suo comincia a pensare ma se è fissato stanotte non vuoi quasi rinna ma io dico una cosa no meglio frocio che fascista io non lo so questi però siccome questi soccoretti politicamente soccoretti non fanno certe cose e allora io dico no ma io non lo so io penso so convinto no che la religione le le inclinazioni sessuali della persona dovrebbero sta fuori dalla politica queste cose no non ma perché se ne parla cioè io io l'unica cosa che che diciamo che non mi va bene sono le massimizzazioni quando proprio sì ma insomma che poi scusa no meglio frocio che è fascista ma se questi so politicamente corretti no ma non non sono stati sempre dalla parte dei gay dei cosi allora se se fai il paragone frocio e fascista che per loro fascista proprio il massimo da perversione una cosa in altra e allora so pervertiti pure quell'altri cioè io non riesco a capire questo fregnezza in gare tipo se mette sempre in mezzo io non uso mannaggia che me posso prendere una pasticca o qualcosa per dormire perché sto cervello lavora per conto suo capito ne posso più ne posso più